L'industria del turismo è di fatto un'industria estrattiva ed è una nuova faccia con cui il capitalismo sta trasformando le nostre città. Io partirei da qui che cosa vuol dire industria estrattiva quando parliamo di turismo. La irrupzione del turismo non è un effetto casual, ma è un effetto molto planificato politicamente, quindi ha un aspecto di industria colonizzadora. Antes se colonizzava territori per extraire e sustraire minerali, mani di obra barata, eccetera. Il mismo concepto si può applicare perfectamente alla industria turistica. La industria turistica llega, colonizza espacios, extrae recursos, incrementando beneficios para unos pocos e precarizza vidas. Io credo che questo è il momento in cui ci troviamo, non solo in le Islas Baleares, che molte volte salono come laboratorio di esperienze turistiche. Allì si sta provando lo che poi si exporta a altri destini turistici, sia del Caribe. Ci troviamo anche il concepto di balearizzazione, come il concepto di colonizzazione e industria extractiva. Ci troviamo, ci troviamo, ci troviamo, ci troviamo, ci troviamo, ci troviamo, al fin e al capo. E questo è il punto in cui oggi il turismo entra in conflitto con la società e auna diversi resposti di colectivi. Gop, come colettivo ecologista, nasce nel 76, proprio in parallelo al inizio della turistizzazione delle isole. Perché si è deciso prima di colonizzare i espacios più virgine, più naturali della costa, e poco a poco ha ido colonizzando altri espacios della isola. Quindi, Gop nace inizialmente come conservazione, come protezione, ma è stata una entità di luce di defensa del territorio, prima, e ora, a día di oggi, una luce fuertemente anticapitalista per il modello, perché la industria turistica non è exclusiva. Anche Mallorca sia stato un laboratorio, il tema è extrapolabile a molti espaciosi, molti luoghi, molti economie, molto globale. Quindi, ora è stata una luce anticapitalista che luce da diversi colectivi ecologisti, laborali, temi sociali, per la exclusione che rappresentano, per i desahuci che rappresentano, per la precarizzazione dei espacios vitali. Sta facendo esclavos a través di un salario, cada vez meno ben dotato, che afecta alla qualità di vita delle persone, e li exclutono da loro proprio espacios vitali, se sono espacios naturali, o se sono città, plazas, espacios públici, o incluso vivienda propria, che già si sta commercializzando, e intendendo come un bien di mercantilizzazione turistica. C'è un aspetto che accomuna moltissimo le giornate del Climate Camp, e del nodo di SET, che è una rete che mette insieme le città del Sud Europa, di fronte a questo processo di turistificazione dei loro territori, e Palma, la città di Palma, ed è la lotta contro le navi da crociera. Il tema del turismo è come che va prendendo nuovi prodotti, il tema della aviazione è un tema che anche sta rappresentando molta discrepancia, la politica, diciamo, globale è di crescita delle infrastrutture aeroportuali, al margen del impatto climatico che rappresentano, e un'altra delle industrie che si ha intensificato molto exageratamente in questi ultimi anni, è la industria dei cruceri. La grandi navi, che arriva, desembarca e consuma la città, direttamente ocupa la città. A parte della pugna per l'espaccio vital in città come Venezia, come Barcelona, come Palma, c'è l'aspetto della contaminazione che rappresentano questi tipi di cruceri. Una contaminazione che si vuole obviare perché non sta nella città, però sì che rappresentano un empeoramento molto duro della qualità del aire in città come Barcelona, Palma o Venezia. Quindi è una arrivata massiva di turisti consumendo un espaccio e generando un impatto del che non se responsabilizzano. Il crucero arriva e si va. Quindi quando sta nel porto ha delle condizioni di impunità in quanto a contaminazione, in quanto a vertidos, in quanto a occupazione e usurpazione del espaccio pubblico, al che nessuno le pide explicazioni. Sono hotelli, situati in un espaccio privilegiato, è la prima linea del porto, nessun hotel o pocos hotelli sono in queste circunstanze, senza che rivierta in la società il impatto, o se faccia del impatto che genera in le città. Il punto di vista sociale, economico, che molte volte si vende come una grande riquezza per il municipio, però in realtà il porto sta beneficiando tasi per attraire più turismo di cruceri, e è solo una questione di quantità visibile, ma non in realtà economica. Vanno con un tutto incluido, molte volte che non repercute più che in un consumo di souvenir, in la città, o a la utilizzazione del pubblico pubblico in la città.